Ciao ragazzi, benvenuti al tutorial di arte. Questa settimana proveremo a fare un Art Toast. Istruzioni per l'uso. Scegliete l'opera da riprodurre meglio sia del periodo di storia dell'arte che stiamo affrontando. Disegnatela con forme semplificate all'interno di un quadrato. Usate quello che avete in casa. Usate strumenti di precisione per incidere, tagliare e spostare. Non fatevi male, fatevi aiutare dai vostri genitori se necessario. Scegliete l'opera da riprodurre. Scegliete l'opera da riprodurre.